ciao bella gente benvenuti in mio canale io sono amale oggi come promesso vi faccio la recensione di questa di questa crema qua che si chiama remiscar che praticamente promette di togliere l'occhiaie al primo alla prima applicazione comunque io vi lascio subito al video tutorial e vedo la mia recensione di questo prodotto fine video ciao a dopo ciao 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 Eccomi! Allora, come avete visto nel video, dunque, la mia recensione è una crema fantastica, effettivamente al primo utilizzo vedete come schiarisce l'occhiaio, non è che la toglie del tutto, però la schiarisce abbastanza, se nota subito la differenza. Allora, io l'ho utilizzata per dieci giorni, dopodiché, causa traslocco, non ho potuto eseguire perché era un casinata tantissimo, cara grazia che sono riuscita a lavarmi la faccia. Comunque, e poi dopodiché l'ho utilizzata gli ultimi tre giorni, perché sapendo che la crema dice che il risultato si vede nell'immediato, io gli ho dato tempo tra i giorni. Effettivamente, togli abbastanza, togli abbastanza le occhiaie, non le elimina del tutto, credo che ci voglia almeno un mese o di più per avere un risultato. Io dopodiché, cioè io l'ho fatta solamente la metà del viso, così dopo il video che volevo fare per voi, e la utilizzerò tutti i giorni, abitualmente, tutte le sere, dopo un mese vedremo il risultato finale insieme. Comunque, è una crema fantastica, addirittura dentro la scatola c'è questo bigliettino in cui c'è scritto Se non sei soddisfatto, entro allora. Il periodo massimo per chiedere il rimborso sono 30 giorni, quindi questa qua, questo ticket, se avete il ticket vostro, vi restituiscono i soldi se non siete soddisfatti. Quindi già che lasciano una cosa del genere, significa che sono sicura al 100% del loro prodotto. Sinceramente a me piace tantissimo, mi piace veramente tanto. Il prodotto costa 37 euro, io l'ho pagato 30 euro perché l'ho preso durante il Black Friday, che c'era un sconto del 20% o qualcosa del genere, quindi ho detto ma sì dai lo prendo. Tra l'altro vi lascio il video del Black Friday, l'ho preso da Druni. Allora, mi piace? Sì, sono soddisfatta, assolutamente sì. Il mio ponteggio è 8 perché è una crema bellissima, però secca tantissimo il contorno occhi. Tantissimo! Infatti a me mi dà un po' di irritazione, quindi devo pensarci se la devo usare tutti i giorni o la uso un giorno sì, un giorno no, lo vedrò perché mi secca tantissimo. Qua nell'istruzione ti dicono che puoi utilizzarlo anche come primer, dovete usare, allora come primer io ne la consiglio perché proprio secca tantissimo la pelle, dovete applicare una crema prima di mettere il trucco perché veramente secca tanto. La consiglio, io consiglio le persone di utilizzarla la sera e soprattutto utilizzare come loro hanno indicato qua, di utilizzarla con una crema super idratante ma non oliosa. Quindi ragazzi e ragazzi io vi consiglio non solo di mettere la crema contorno occhi ma utilizzare prima un siero, un siero super idratante, l'assenza e mettere dopo la crema per il contorno occhi, che sia una crema sostanziosa però non oliosa perché sennò non vi aiuta tanto con l'effetto che dà. Tra l'altro da dentro la scatoletta loro mettono una crema, un sachet di crema, un campioncino della stessa marca che tra l'altro è una crema fantastica, ha un l'effetto tipo menta, buonissima. E il problema è che io col trasloco l'ho persa, mi è rimasta un pochino, l'ho persa ma credo che la comprerò quando mi finirà la crema di Clinique, comprerò questa perché mi è piaciuta tantissimo perché è iper 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 idratante. Comunque per la gente il mio punteggio come vi ho detto è 8 perché è un prodotto meraviglioso, ne vale 1 centesimo, vi toglie via le occhiaie, ovviamente non è che vi toglie del tutto le occhiaie però li schiarisce abbastanza, mi piace tantissimo, effettivamente schiarisce al primo uso, mi piace tantissimo, vi la consiglio senz'altro, a me non mi pagano per fare questo, non sono così famosa perché mi paghino per il prodotto, però io lo faccio perché da tanto che la volevo sprendere, da tantissimo tempo e mi è piaciuto il risultato e per cui condivido con voi questa crema qua. Per la gente spero che vi è piaciuto questo video di recensione, se vi interessano altre recensioni io tranquillamente ve lo posso fare, e io ho un'idea di fare alcuni prodotti che io ho utilizzato e condividere con voi il mio pensiero, la mia esperienza con questo prodotto. Bella gente, grazie di avermi seguito, mi raccomando se vi è piaciuto il mio video mettete un like, attivate la campanellina, lasciatemi soprattutto un bel commento, seguitemi su Instagram e su Facebook. Bella gente, alla prossima, al prossimo video che sarebbe domenica alle 7. Buona giornata a tutti, ciao!